Anasonic desidera diventare entro il 2018, anno del suo centesimo compleanno, l'azienda numero uno Green Innovation Company nel settore delle aziende dell'elettronica di consumo. Diventare Green Innovation Company vuol dire proporre nuovi prodotti. Il primo di questi nuovi prodotti che consentirà alle nostre case di acquisire uno stile di vita virtualmente ad emissioni zero sono i pannelli solari ad alta sensibilità che consentono di generare energia per la nostra casa. Possiamo anche generare energia utilizzando le Fuel Cell che è un nuovo strumento di Panasonic partendo dal gas metano di città e con una scomposizione di tipo chimico generare acqua calda ed energia. L'energia così creata e immagazzinata nelle nostre batterie viene poi rilasciata durante il giorno secondo le necessità dal sistema Panasonic Gateway che è una centralina che ci consente di ottimizzarne l'utilizzo secondo le necessità e quindi potremo guardare il nostro televisore, utilizzare tutta la luce che vogliamo con le lampade a risparmio energetico LED di Panasonic, utilizzare l'aria condizionata e perché no ricaricare la nostra automobile elettrica, anche lei dotata di batterie Panasonic.